Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, eccoci al video più atteso del mese, almeno per me. Scusate, oh signore l'età, devo tenere un cuscino dietro la schiena, ahi noi. Allora dicevo, arrivo all'appuntamento più atteso del mese per me, e cioè il video dei preferiti del mese, in questo caso novembre 2022, in collaborazione con tre donne meravigliose che io non vedo l'ora di poter un giorno conoscere e abbracciare di persona, che sono Melania Costantino, che è la creatrice di questo tag, o tag, boh, non lo so, e poi Manuela Rodríquez, meravigliosa donna, napoletana doc, lungocrinita, meravigliosi capelli neri, un viso stupendo, e senza niente togliere le altre due moschettere, nel senso sono tre bellissime donne, e poi la nostra mascotta, la giovincella del gruppo, che è Sverigia, che abita nel profondo nord dell'Europa. Un bacione a te? E come fai a vivere in un paese così freddo? Si scherza, sono paesi affascinanti, io sono stata in Finlandia, sono stata in Norvegia, No, sono stata in Svezia, se non forse di passaggio, e nel senso l'avrò anche sorvolata, e devo dire che mi sono rimasti nel cuore quei paesi molto civili, come dire, in questo aggettivo ci metto il rispetto per la diversità, il rispetto per i bambini, il rispetto per gli anziani, anche se furbacchiotti e furbacchiotti, io ci sono andata che ero giovane, non pensate subito, oh questa tira l'acqua, quel suo mulino, no, un po' la tiro perché avevo i figli bambini, e c'era sempre, sempre, sempre un posto per i bambini, ovunque tu andassi, nell'albergo, anche semplicemente in un baretto, c'era un angolino di giochi, i nostri figli, credo che in quei giorni, soprattutto parlo della Finlandia, in Norvegia erano già più grandini, e hanno apprezzato, ma in modo completamente diverso, in Finlandia hanno vissuto un sogno, hanno veramente vissuto un sogno. Allora, ma noi veniamo al... Sì, lo so, ho un rossetto che è un gloss, ma sembra un rossetto, ed è uno dei meravigliosi Juicy Love di Clio Makeup, ma ne parleremo perché sta dentro i preferiti. E allora andiamo alla prima domanda, senza frapporre tempo in mezzo. Domanda numero uno, film e serie tv preferito o preferita del mese? Novembre 22. Per quanto mi riguarda, una serie tv, The Crown, la quinta stagione. Sapete la mia passione per la regina Elisabetta, che purtroppo ci ha lasciato e mi ha avuto una lunghissima vita. È un personaggio che mi ha sempre conquistato, perché è una donna che è riuscita ad affermarsi nella vita, in un mondo che è il mondo del potere, che è tutto maschile. Certo, giovandosi di un appartenere ad una casata reale che consentiva alle donne di regnare, questo è evidente, ma che tuttavia di lei apprezzo, apprezzavo, diciamo, la sua capacità comunque di lasciare alla storia il suo fluire, e cioè ha consentito all'Inghilterra, quando i tempi erano maturi per non essere più un impero, ha consentito all'Inghilterra di diventare, a buona ragione, uno dei paesi, diciamo, più democratici del mondo e sicuramente della nostra Europa. Sono tutti paesi democratici, quelli della UE, intendiamoci bene. Ok, e poi adoro i suoi cagnolini, i suoi corgi. Bene, The Crown, quinta stagione, apprezzo molto questa serie, molto accurata, qualcuno dice che la regina è piaciuta solo la prima stagione, beh, ci credo, lì era giovane, interpretata da una bellissima attrice, ma non so se davvero poi non gli è piaciuta. Direi che il personaggio è trattato con guanti di velluto, e insomma con grande rispetto e ammirazione. Poi, prodotto make-up preferito del mese, io ci metto gli ombretti in crema e gli ombretti liquidi di Clio, recentemente arricchiti con nuove uscite, a scopo semplicemente informativo, vi propongo Candy Wrap, che è questo meraviglioso, appoggiamo il tablet un attimo, che è questo meraviglioso colore, a metà strada tra il lilla e il grigio, ed è veramente stupendo, ce l'ho su adesso, e poi anche se nel trucco la fa da padrone, uno Sweetie Love, che invece sono rossetti liquidi opachi, questi sono brillanti in crema, che è questo meraviglioso colore, questo si chiama Tiramisuper, che è una specie di marrone, ma non caldo, direi marrone freddo, visto che sono anche un po' abbigliata nei colori delle cortecce degli alberi, e quindi ho usato questi due ombretti, prima questo è sfumato con questo qua, e devo dire che, pur essendo due colori diversi, però vedete, entrambi hanno qualcosa che riguarda, che ricorda la corteccia degli alberi, e in questo tripudio di colori autunnali, ci ho messo su anche questo meraviglioso, che è Donut Glacé, uno degli Juicy Love, che appunto sono gloss, ma con dignità di rossetto, non vanno nelle pieghe, ottimi prodotti, lo sapete, la mia passione per Clio, e trovo che i loro prodotti siano molto molto studiati. Domanda numero 3, brano musicale preferito del mese, per quanto mi riguarda, una canzone famosissima, che ho avuto occasione di riascoltare, la trovate su YouTube, in mille versioni, ma la mia versione preferita, è quella della sua autrice, della creatrice di questa meravigliosa canzone, che è Gracias alla Vida, di Violetta Parra. È una canzone meravigliosa, incisa nel 66, ed è considerato un testamento spirituale, interpretata poi da numerosi cantanti, anche nostrani, e Violetta Parra, incise questa canzone nel 66, al culmine di una carriera meravigliosa, che l'aveva portata, lei donna dall'aspetto così semplice e dimesso, ai vertici della fama mondiale, e purtroppo il 5 febbraio del 1967, a soli 49 anni, lei che era affetta comunque da una gravissima forma di disturbo depressivo, si tolse la vita. Questo ci porta un po' al dramma, di chi arriva fino ad una scelta così suprema, tragicissima e definitiva, che è quella di togliersi la vita. È una decisione che, io credo che si possa solo lontanamente immaginare che cosa passa per la testa di un essere umano, quando prende una decisione di questo tipo, di lasciare tutto, magari i propri cari, le proprie cose, la propria vita, il proprio paese, e tutto, con una scelta così tragica. Quindi massimo rispetto per chi ha fatto questa terribile scelta. La canzone è meravigliosa, la luce poi degli eventi successivi diventa ancora più commovente, perché lei ringrazia la vita e saluta in qualche modo. Domanda numero 4. Prodotto per la cura del corpo o del viso preferito? Allora, un prodotto che è praticamente sconosciuto perché lo produce semplicemente un istituto di bellezza dove io vado a tutti i mesi per diventare bene in presa disperata. A parte ciò, dove vado a fare manicure, pedigure, e da qualche mese faccio anche un trattamento viso che ti tira via 10 anni! Anche se recentemente in un video me ne è andati 80. Vabbè, comunque, è il contorno occhi-labbra, è un siero anti-age, sono come vedete 30-30 millilitri, che sono semplicemente sono firmati, che è firmato questo prodotto dal Centro Professionale Dina Ferreri, quindi è un prodotto semplicissimo, si applica mattina e sera, io lo faccio al mattino, dopo un'accurata ovviamente e detersione, sulle zone interessate, una piccola quantità e si massaggia delicatamente, i sieri non vanno mai massaggiati in profondità, ma un po' spalmati, diciamo in qualche modo, ed è occhi-labbra, ma si può mettere anche sul naso labiale, comunque sulle rughe più importanti, io lo metto sul contorno occhi, un po' anche qui, che ho queste rughe profonde, e sul naso labiale, è ottimo, piacevolissimo all'uso, fresco, lo consiglio, e dove si trova, e dovete andare al centro estetico, no, non lo so, forse si trova anche sul web, ma non ho cercato a dire la verità. Poi, libro, fumetto, graphic novel, preferito del mese, allora, per quanto mi riguarda, Le notti della peste di Oran Pamuk, di cui ho già accennato su Instagram, in qualche breve video, eccetera, l'ho finito? no, non ancora, solo mi manca questo pezzetto, quindi direi che sono a buonissimo punto, l'autore è un autore che amo molto, grandissimo scrittore turco, che si divide tra l'amatissima Istanbul e New York, credo, forse insegna, non so, ed è indubbiamente un grande della letteratura, trovo stupenda anche la copertina, comunque, vabbè, fa niente, e di cosa si narra? Lui, beh, lui è stato insegnato anche del Nobel per la letteratura, non ricordo in che anno, sinceramente, 2006, tra i suoi libri, tutti in Italia tradotti e pubblicati dai naudi, Libro Nero, Il mio nome è rosso, che li ho letti, e poi, credo, basta, a mia, a Neve, anche Neve ho letto, e in ogni caso, è un, è un grandissimo scrittore, ha una scrittura densa, importante, bella. Questo tomo di ben, cosa saranno, settecenti, eh sì, vabbè, 670, 680, 690, insomma, 700 pagine, vi tiene avvinto a questa storia, siamo nel 1901, e nell'isola immaginaria di Minger, di Lagalapeste, e un uomo è chiamato a fermarla, e non vi anticipo niente, ma insomma, un po' in quest'uomo, ma poi nei suoi collaboratori, ci sarà il destino di questa piccola isola, e dei suoi abitanti. Ora, Rampamucca ha creato un mondo, parlando al nostro presente, con una forza e un'intensità, che sono quelli della grande letteratura. Ora, gente, qui si parla di una pandemia, qui si parla di quarantena, qui si parla di distanziamento, di isolamento, si parla di misure atte a fermare il dilagare di un'epidemia, quindi qualcosa che ci ricorda il nostro presente, anche se l'autore che ha scritto questo libro tra il 2016 e il 2022, in cui è uscito, quindi recentissimo, ha giurato e spergiurato, nelle varie conferenze stampa, di presentazione, eccetera, di non essere stato, cioè di non essere partito con questa idea, a causa di quello che stava succedendo nel mondo, tra il 20 e tuttora perdura, seppure con provvedimenti molto diversi, presi negli stessi paesi, al di là del numero poi dei casi, ha detto appunto, no, io non l'ho scritto perché c'era una pandemia, ma questo, io non dubito che sia così, io non vedo perché non credergli, e questo allora ci conferma che l'intellettuale vede più avanti di tutti noi, mille, come dire, mille casi si potrebbero citare, di Pier Paolo Pasolini, che previde, come si dice, previde, insomma, vedeva lontano e nei suoi scritti parlava di quello che poi è stato il nostro futuro come paese, ma anche semplicemente, semplicemente dico perché adesso di fronte a un gigante come Pasolini, tutti sembrano piccoli, ma il nostro grande regista, Nanni Moretti, per esempio, nei suoi film, quello su un papa che si dimette, piuttosto su quella delle evoluzioni politiche dell'allora presidente del Consiglio, l'ho detto, ma non ho detto il nome, previde in maniera veramente impressionante, altro che il nostro Adamus, in maniera veramente eccezionale, quindi è come se l'intellettuale ha una specie di binocolo, in qualche modo, un cannocchiale incorporato, che gli consente di sentire, diciamo, dove stiamo andando e che cosa sta succedendo. Quindi è un libro meraviglioso, non l'ho finito, però non dubito che sarà bello fino alla fine, e naturalmente come mia abitudine dedicherò un video a questo libro. Poi, cibo e preparazioni culinarie preferito, preferità del mese, allora, come sempre nel mio stile di mangiare, io mangio sanissimo, devo dire, non che non mi piacciono le cose golosi, mi piacerebbero molto, ma dato che poi mi fanno male, le evito, ed è questa qua, dell'esse lunga, della grande esse lunga, una zuppa di verdure con verze e lenticchie, 100% vegetale, con legumi e verdure fresche, con olio extravergine di oliva, italiano, vabbè, forse anche spagnolo, non ci fa del male, comunque, a parte ciò, c'è anche il nostro tricolore, va bene, sono due porzioni, quindi sono fresche, vedete, questo è l'aspetto, contiene anche patate, leggo gli ingredienti se volete, acqua, verdure fresche per il 33%, verze, patate e cipolle, lenticchie, 12%, olio extravergine di oliva, 0,6%, il sale, l'ultimo ingrediente, sono poco salate, ecco, non ha coloranti, può contenere tracce di sedano, soia e cereali contenenti glutine, va conservato in frigo, e si estrae, sapete, sono quelle ciotole, con una specie di pellicola, va tolta, si mette in microonde, e va soltanto, semplicemente riscaldata, la quantità, o tutto, o anche a volte io ne mangio metà, perché sono due porzioni, oppure, quindi si può fare in microonde, oppure anche in pentola, scaldare a fuoco lento, fino all'evoluzione. Sono 620 grammi, è una delizia per il palato, un piccolo conforto, nelle sere più umide e fredde, vi fate questa bella zuppa, poi basta un pezzettino di formaggio, un frutto, e siete a posto, e andate così. Poi, capo d'abbigliamento, domanda numero 7, capo d'abbigliamento preferito del mese, allora, io ho scoperto, sono un amante dei dolce vita, in inverno, in primavera e in autunno, in estate no. Ho scoperto, però, dopo lungo peregrinare, perché non è facilissimo trovarli, i dolce vita di cotone, questo è davanti, il dedrio, è davanti, questi qui. Adesso l'abbiamo un po' spiegazzato, io prendo sempre taglia grande, prendo XL, lo so che vi può stupire, ma amo vestire largo, comunque non è largo, nel senso che venne andate in giro tipo clown, è assolutamente, è morbido, è morbido sul corpo, e hanno una morbidezza eccezionale, questi li prendo su Amazon, ho preso diversi colori, anche questo qui, che è di questo bellissimo, si chiama color anacardio, e come vedete, è un marrone medio, c'è sicuramente una componente gialla, ma c'è anche del grigio, è un colore molto interessante, non è nella mia palette, ma non importa, sopravviveremo, e quindi, ho detto una sciocchezza, li ho presi anche su Amazon, questo per esempio è su Amazon, questo qui invece è di Uniqlo, sì, perché qualcuno l'ho preso su Amazon, e qualcuno su Uniqlo, che è quel brand giapponese, che adoro, che se lo prendete con gli sconti, i prezzi sono interessanti, comunque anche questo non è economicissimo, questi su Amazon vanno sui 30 euro, mi pare, adesso con il Black Friday, erano scontati, questi qui non mi ricordo, anche questi erano in Black Friday, ma comunque non costano un'enormità, più o meno, siamo lì, questo è fatto di 70 acrilico e 30 viscosa, questi manca lì, c'è dell'acrilico, c'è della viscosa, non mi ricordo se in quelli di Amazon, c'è anche della lana, non so, comunque questi qui di Uniqlo, sono di una morbidezza pazzesca, e rispetto alla lana, io non ho niente contro la lana, ho dei Dolce Vita di pura lana, ma li uso poco, perché il lavaggio poi è un problema, perché non vanno ovviamente lavati, anche se nell'etichetta c'è scritto lavare a mano, no, me ne sono messa in feltrito, uno blu scuro, bellissimo, pura lana 100%, peccato, via, non se ne parla più, e quindi questo vi ho detto la composizione, di questi qui, posso anche verificare in diretta, tanto mica mi devo spogliare, vediamo se trovo l'etichetta al primo colpo, se l'etichetta è chissà dove, pazienza, sennò ve lo scrivo nell'info box, no, non sento etichette, niente, ve lo scriverò nell'info box, quindi io le ho trovate sia su Amazon, che anche su Uniqlo, diciamo che quello di Amazon forse è leggermente meno morbida, comunque sono molto confortevoli, lavabilissime, in lavatrice, si possono anche non stirare, le stirate un po' con le mani, come diceva mia mamma, poi commento al video preferito del mese, mi piace moltissimo quando interagiamo, e quando i nostri commenti reciproci hanno una specie di seguito, per esempio una ragazza dolcissima, che mi ha chiesto, che prodotti comprare per la sua mamma, basic, tipo una crema da giorno, una da notte, un siero, come orientarsi, io le ho consigliato alcuni prodotti, e lei mi ha risposto, poi dopo qualche giorno, ciao Paola, un piccolo aggiornamento, abbiamo seguito il tuo consiglio, abbiamo acquistato l'intera linea che suggerivi, e non mi ricordo se era di, le ho suggerito Lancome, l'Hydrozen, o se tutta la, forse tutta la linea di Lab Care, che oltretutto ha dei prezzi interessanti, e tenetelo d'occhio, quel brand Lab Care, Lab Care, non è costoso per niente, hanno dei prodottini, al bacio, skin care, parliamo di skin care, e quindi ha detto, piccolo abbiamo seguito, abbiamo acquistato l'intera linea, mia mamma si sta trovando bene, una decina di giorni di utilizzo, la sua pelle, è già più luminosa, e anche la compattezza cutanea è migliorata, cara Samantha, sono felicissima, che la tua mamma si sia trovata bene, ed è anche una donna fortunata, perché ha una figlia così affettuosa come te, poi, domanda numero 9, qual è l'accessorio preferito del mese, per quanto mi riguarda, ho conosciuto, cioè ho usato, sapevo già che esistevano, però io uso molto le Nikke o Nike, però ho scoperto queste altrettanto comode, che sono le Skechers, eccole qua, queste sono in malva, sono fatte benissimo, almeno il modello che ho preso io, hanno questo dettaglio, credo che sia in plastica, però in questo caso è di oro rosa, perché la scarpetta è malva, poi le ho in nero, e questo dettaglio è nero lucido, e come vedete sono, hanno una meravigliosa suola interna di memory foam, non so se si riesce a vedere, poi le vendono anche con, vabbè qui dentro non c'è, quando poi le mettete via, anche dopo ogni utilizzo, c'è anche, come si dice, quei tieni in forma di cartone, di ottima qualità, sono belle imbottite, questo è il color malva, il mio consiglio è di prendere un numero in più del vostro, io porto il 36, ho preso il 37, mi trovo benissimo, come camminare sulle nuvole, veramente, grazie a tutti quelli che sul web ne hanno parlato, così ho potuto, ci sono altri brand, e me li avete consigliati, che offrono scarpe comode, diciamo che in questo momento sono a posto, perché ho le mie storiche Nike, e poi ho queste due paia nuove, direi basta, insomma sono a postissimo, e poi le cronache dal nord, e le cronache dal sud, allora, la mia riflessione, è una riflessione molto personale, nel senso, va bene, le temperature sono impazzite, questo l'abbiamo capito, ma ormai, in pratica, fa un po' freddo, comunque le temperature si sono abbassate, direi più o meno in tutta Italia, meno male così, anzi, è venuto fuori proprio un signore autunno, cioè veramente freddo, veramente, come dire, soprattutto umido, parlo qui del nord, viene voglia di andare un po' al sud, magari per avere delle temperature più dolci, ma da un po' di anni, io ho notato che, come dire, non sono mai stata una grande viaggiatrice, perché tra le mie paure, che ho scritto in quel video, che vi è piaciuto tantissimo, dove vi racconto le mie paure, c'è anche quella un po' dell'essere lontana da casa, dalle mie certezze, eccetera, e sono sempre stata così, anche da ragazza, ero così, pensavo sempre a quando sarei tornata a casa, avvisavo sempre mia mamma se partivo, tenevo sempre un legame stretto con la casa, e tornare a casa dopo una vacanza anche meravigliosa, non mi è mai dispiaciuto, mi è sempre piaciuto, sono stata sempre felice di riaprire quella porta, sia quando vivevo con i miei, o quando adesso, che vivo con il mio tesorino, che è lì, salutare, se hai voglia, ciao, e quindi dicevo, e con i miei figli, anche se adesso la figlia vive per conto suo, ma giustamente, già da un po' di anni vive per conto suo, e quindi dicevo, aprire quella porta, che mi conduce al mio piccolo mondo, alla, come dire, alla luce, al calore, all'amore, che trovo, in questo piccolo, diciamo, guscio amoroso, potrebbe essere anche grande come un castello, ma c'è sempre un guscio amoroso, che contiene poi tutta la nostra vita, e quindi, ho sempre provato piacere, insomma, a rivedere casa, ecco, in qualche modo, anzi, a volte, se si sta via tanto, tornando di, mi sento un po' stranita, ma, insomma, dura veramente poco, questo per dirvi che faccio proprio un po' fatica, anche a pensare, di fare qualche viaggetto, però, insomma, magari adesso, vediamo, come diceva mia nonna, senza fare progetti, piacendo al Signore, ci piacerebbe, insomma, progettare un viaggetto, nel nostro profondo sud, ci penseremo, vedremo, magari aspettiamo la stagione, un po' più mite, forse no, ma, chi lo sa, vediamo, amiche e amici, il mio video finisce qui, naturalmente, vi invito assolutamente, a vedere, gli altri due, tre, gli altri tre video, non sempre, riusciamo ad essere tutte, e quattro presenti, però, voi andate anche, sui canali, che vi lascio sempre, qui sotto, in descrizione, sia di, di, ce la posso fare, sia di Melania, che di Manuela, che della nostra Simona, perché, io spero, naturalmente, che riescano a pubblicare, anche questo mese, e, quindi, ricordatevi sempre, di fare ciò, che vi fa stare bene, e, io vi mando un bacione, l'assistente vi ha già salutato, Ari ciao, Ari ciao, ma sì, tutto grasso che cola, come dicono qui, in Lombardia, e, e, naturalmente, alla prossima, e mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, io vi aspetto, ciao amiche amici, alla prossima, avete visto da vicino, il trucchettino, un po' tutto sui colori, delle cortecce, degli alberi, come sono belli i boschi, in autunno, a me piacciono, quando le foglie, sono secche, però, non quando piove, tutto col ciaccia, 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 mi piace quando, l'aria bella asciutta, e le foglie fanno, cric croc, cric croc, sotto le vostre, scheccer, un bacione, di potenza, di piazza, Grazie.